ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale come vedete oggi torniamo sui football 2023 per parlare di un argomento molto interessante in tanti me lo avete chiesto ragazzi parleremo delle skill vi dirò quali sono quelle più interessanti quelle più efficaci per quanto riguarda il gameplay attuale soprattutto dopo l'aggiornamento 2.4.0 e vi farò vedere tramite lo skinpad visto che me lo sono messo in schermata come funziona effettivamente quella skill effettiva prima di andare avanti ovviamente qualora non avreste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei contenuti road to 2000 iscritti quindi ce la possiamo fare stiamo andando come dei treni ragazzi dobbiamo arrivarci quanto prima per poter continuare a portare contenuti sempre con più frequenza soprattutto con più qualità quindi mi raccomando sosteniamo il canale oltre a youtube o anche un canale twitch dove vado spesso e volentieri in live su e football 2023 e non solo nei prossimi giorni arrivano nuovi contenuti molto interessanti molto divertenti quindi mi raccomando se volete supportarmi venite anche sul canale viola ultimo ma non ultimo un gruppo telegram dedicato ad e football 2023 tutto sotto link in descrizione trovate tutti i miei contatti i social da instagram facebook seguitemi anche lì mi raccomando e adesso tuffiamoci a capofitto sulle skill o ragazzi ci dirigiamo in allenamento perché purtroppo non possiamo andare in partita e usufruire comunque delle skill in maniera chiara tornandoci più volte su un determinato episodio andiamo su allenamento libero vi dico subito che ci sono tre skill proprio che sono efficaci per il gameplay attuale metto comunque anche qui le mani avanti dicendovi che usufruendo delle skill non vuol dire che voi siate più forti dell'avversario in un modo inoltre le skill servono ad aggiungere qualità al vostro gioco e probabilmente anche un po l'efficacia del vostro gameplay ma ai fini dell'azione potrebbe anche risultare inutile quindi più sarà efficace la vostra giocata più riuscire col tempismo con la qualità più riuscirete a rendere efficace anche la finalizzazione ok spero di essermi comunque spiegato alla perfezione come vedete il comando di base di ribinga ci vuole il tasto i tasti c'è la levetta direzionale che è questa qua la vedete lo skin pad lo vedete questa è la leva direzionale per ovviamente fare il dribbling normale quindi spostando semplicemente la levetta sinistra destra usufruiamo comunque del dribbling insomma quello classico quello normale con le levette dopodiché andando a prendere un giocatore effettivamente che può skillare ci spostiamo perché comunque non tutti i giocatori ragazzi sanno skillare quindi mi raccomando questa è una cosa molto molto importante vi faccio vedere subito la crocchetta crocchetta è sicuramente proprio il la skill più efficace in questo game c'è chi riesce a farlo con la sua ala come esempio ma proprio quello più clamoroso neymar e chi effettivamente fa semplicemente il doppio il doppio tocco ok in questo caso io ho come player o come giocatore griezmann e griezmann effetto doppio tocco rapido veloce quindi quando dobbiamo usufruire prima di tutto della freccia direzionale ok noi siamo in direzione della porta vedete che siamo verso la porta ok e quindi dobbiamo cercare di rendere efficace la nostra skill destra sinistra vedete questa parte questa levetta qua ci darà la possibilità di effettuare la skill quindi facciamo tac tac ok noi adesso siamo verso la porta va bene quindi direzione così oppure così per andare verso una porta avversaria primo secondo tempo e poi si effettua prima prima si usa la levetta destra per andare alla direzione della skill e poi dopo si usa la levetta direzionale guardate hop hop vedete spero di essermi spiegato bene levetta destra e poi dritto adesso non me l'ha combinata però la faccio rivedere guardiamola ancora su sotto vedete guardate bene il gamepad guardate lo skinpad come come va guardate hop hop vedete quindi questi sono i movimenti da fare per quanto riguarda la crocchetta genna però lo vorrei fare anche in orizzontale allora vedete sempre in direzione verso il basso per rientrare per dire se io me ne vado adesso vi faccio vedere se io vado verso verso l'interno ok sono andato sulla fascia per dire togliamo questo ho tolto intanto i comandi se io voglio rientrare in questo mi fermo azione mia rientro così guardate giù pop vedete direzionale verso il basso sempre però prima usiamo la direzione a destra la levetta destra e poi usiamo una direzione guardate hop 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 vedete si può fare questi sono i tasti a utilizzare per la crocchetta sempre prima la letta la stessa cosa per quanto riguarda il l'altra parte vedete se dobbiamo rientrare dall'altra parte facciamo se senti che cosa quindi riproviamo senza provare senza utilizzare altri tasti guardate guardate sempre lo skinpad è importante che voi guardiate i miei movimenti quindi verso la porta quindi dritto per dritto diretta destra verso l'alto verso il basso la tatac e mi fa la crocchetta questa è la crocchettina ragazzi quindi dritto adesso non me l'ha fatta ancora riproviamo insomma vince troppo la porta sotto ecco qua vedete riproviamo ancora dall'altra parte stessa cosa dipende dalla direzione della porta ragazzi dove attaccate voi dovete semplicemente usare prima destro prima la letta destra e poi la sinistra sopra e sotto sopra e sotto vedete che esce sempre questa è la crocchetta classica in game verso se dovete rientrare sempre destra sinistra guardate sempre così guardate questa è la crocchetta prima le vette destra e poi le vette a sinistra semplice sicuramente la skill principale quella che vi permetterà di dribblare molto più velocemente un avversario però dovete usare il tempismo giusto perché se la fate a ridosso dell'avversario ve la fregano ok quindi dovete trovare e a distanza giusta questa non ve la posso spiegare io dovete capirla voi giocando di giocando sta giocando provando riprovandola cerchiamo di capire dove sta il timing giusto per effettuare proprio la skill che è quella più efficace per quanto riguarda e football 2023 un'altra skill che mi piace veramente tanto ragazzi è la tira e vai allora la tira e vai è semplicemente ragazzi adesso lui sa anche il colpo di tacco non lo sapevo guardate come funziona indietro indietro e verso il basso ok mania molto veloce guardate hop avete capito e verso la verso l'alto adesso vediamo se va ok adesso lui non me la fa ok la tira e vai vuol dire opera tira e vado insomma vedete un po come si come si come la volete denominare è semplicemente una finta rientrare e uscire ok modo che il vostro avversario prova a portare via palla con il testa a testa per dire voi lo attirate e poi la palla la spostata verso sinistra o verso destra vi faccio vedere ancora guardate ok in questo caso dovete essere stra veloci guardate ok e la stesso discorso vale quando cambiate ovviamente direzione se io vado di qua faccio questa roba qua lo vedete se io sono verso il basso indietreggio e livello ok indietreggio livello ok riproviamo la capo questa io la chiamo attire vado ok io la chiamo attire vado quindi attiro e vado adesso vediamo se gli smancio a voi di fammi la skill ok questa è una skill molto efficace molto efficace semplicemente perché perché permette ai giocatori di di poter essere di poter essere ancora più imprevedibili oltre la crocchetta che può essere quella che dà la possibilità di scartare l'avversario in maniera totalmente totalmente veloce senza senza possibilità di recuperare il pallone in questo caso anche la tira evado è una sorta di di rischio perché poi se l'avversario riesce prendere il timing giusto così come la crocchetta la palla va la porta via se siete in questa situazione ripartono in contropiede e siete praticamente finiti per questo mi dicevo come inizio video se volete fare effettivamente una crocchetta una crocchetta una skill effettiva dovete essere dovete essere sicuri del timing perché altrimenti rischiate se non rischiare la vostra squadra di prendere un contropiede che non finisce più quindi riproviamo la tira evado accolo qua allora ok ricordatevi che la diversa rispetto alla porta voi dovete fare il movimento a specchio nel senso se io sono di qua vado indietro che cosa per me il tasto per portare la palla indietro sarà questo piuttosto che questo quindi faccio questo movimento e poi vedete vediamo se c'è ok avete capito se siete fermi ovviamente a fare un altro tipo di movimento ma sarà sempre la tira e vado sempre la tira e vado vedete adesso li provo da capo guardate basta fare quel momento qua basta una basta veramente una leggera inclinazione verso l'alto o verso il basso rispetto a quello che volete fare voi e vi cambia totalmente la skill quindi dovete essere precisi 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 terza skill che a me piace veramente tanto usare è la finta di tiro la finta di tiro insieme alla crocchetta secondo me la skill migliore che si possa utilizzare in questo gioco la finta di tiro semplicemente si può utilizzare con quadrato x di conseguenza ragazzi guardate bisogna attesa del tasto direzionale ovviamente questo è importante se utilizzate la corsa occhio perché volete se io faccio la finta guardate cosa fa la palla se l'allunga tantissimo quindi io vi consiglio di fare una finta di tiro soltanto quando state camminando fondamentale sta accompagnando il pallone se correte occhio perché vi fa la finta ma la palla quando lo tocca se la sposterà veramente troppo avanti e chi non ha controllo palla o chi non ha velocità per andare a provare il recupero come boppe come messi o come neymar farà molta molta fatica già gridsman secondo me sotto questo punto di vista fa molta fatica quindi la finta di tiro è un'altra skill molto importante non sembra difficile ma in realtà è lo è perché guardate qua vi faccio vedere il mio vicino anniversario però una skillo a te oppa oppa vedete già se dobbiamo cambiare direzione risulta essere molto più difficile per quanto riguarda gridsman la finta di tiro si può utilizzare in sbagliate situazioni vedete io se voglio provare a cambiare direzione lo posso fare guardate guardate i miei tassi come vanno però capito cioè la finta di tiro io di solito la utilizzo dove la utilizzo la faccio vedere quando io mi trovo in queste situazioni guardate io sto correndo la persona mi ha recuperato ok io eccolo qua queste sono le mie finte che faccio o mi fermo effettivamente e poi la smisto ok oppure semplicemente io rientro una volta che rientro guardate cosa fa avete visto io scrocchetto provo il tiro a giro e vado ok questa cosa spostiamoci su un bapè ok bapè è un altro giocatore che skilla veramente tantissimo ok questa è un altro è un'altra skill che fa un bapè la tira e vado è molto più efficace guardate molto più efficace molto più diretta guardate comunque detto ciò guardate un bapè guardate un bapè finta di tiro a rientrare ok finta di tiro e vado io faccio queste cose qua quando mi capita di voler essere ancora più imprevedibile poi scrocchetto insomma non è un pro vedete come tatac bapè è sempre molto più efficace molto più veloce messi nei mare è quello più buggato perché usa il dreaming di suola però questa è una skill molto interessante molto efficace che permetterà sicuramente di essere imprevedibili e sicuramente quella più semplice da fare vedete io voglio fermarmi attira e vado vedete oppure posso usare altre mille finte però ce ne sono tantissime efficaci in questo game sicuramente la crocchetta attire vado e la finta di tiro sono le più efficaci le finte di tiro le autorizzano veramente tanti pro player proprio roba da 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 farti nervosire veramente tanto ci sono alcuni che mi hanno detto guarda genna sarebbe da utilizzare il cerchio e il nx il cerchio x sono molto più efficaci mi hanno detto però io non riesco vedo che la palla a parte che mi inceppo perché tante volte rischio di dare via il pallone però si può anche fare si può anche fare cerchio x se ve la sentite io poi usufruendo tanto il quadrato per tirare e si può fare io riesco a fare con quello comunque non cambia quasi nulla sicuramente è un attimino più diretto alla della finta di la finta di tiro col quadrato però effettivamente a me serve per fare quelle due cose poi rientro scrocchetto tira giro e vediamo se la palla entra comunque non sottravolta che mai questo tipo di finta per me è una skill e sicuramente tra le tre che mi è elencato è quella più efficace ok quindi le tre migliori skill per quanto riguarda il gameplay e sono queste qua crocchetta alcuni fanno il doppio tocco crocchette inteso doppio tocco ricordatevi le direzionali per quanto riguarda invece la tira e vado è un'altra finta molto importante vedete ve la faccio rivedere ancora eccola qua quando se la portano sul piede sul piede debole ovviamente fanno molta più fatica eccoci qua ragazzi andiamo alla quarta skill quarta skill il sombrero il sombrero più semplice di questo non si può fare ok se la facciamo in velocità ragazzi guarda cosa succede ok facciamo in velocità ok avete capito se io la faccio in velocità anche bapè anche bapè quando riesce a fermarsi che lo dice lui allora la palla allora sarà fatta in velocità ragazzi questa skill risulta essere inutile guardate quasi io prendo palla adesso mi devo fermare e devo andare questa il sombrero è una skill molto importante più che altro per provare a saltare l'avversario e sbeffeggiarlo però ai fini dell'azione risulta essere molto rischiosa perché mettiamo caso voi non ce la facciate a fare il sombrero guardate cosa succede non funziona sempre quindi l'avversario in qualche modo risulterà potrà prendervi il pallone e quindi risulterete essere abbastanza goffi sotto quel punto di vista per quello che dicevo secondo me le migliori tre skill sono crocchette a tira e vado e la finta di tiro per quanto riguarda invece il sombrero si può ovviamente fare ma a me non esce sempre vedete cioè in quel caso per farla funzionare al meglio io vado poi tolgo tolgo la levetta con la sensazione che mi vada meglio in questo caso non c'è bisogno di fare chissà che tasti direzionale dritto per dritto e provate a farla vedete che a me non esce sempre purtroppo bisogna trovare il timing giusto io purtroppo con questo sombrero faccio molta fatica infatti non lo utilizzo mai però è una skill e quindi se a voi piace effettivamente a fare questo tipo di cosa fatela e se risulta essere efficace più a voi allora continuate a farlo però occhio mi raccomando perché questa skill è veramente molto molto difficile da attuare quinta skill ragazzi e penso che sia anche l'ultima che vi farò vedere perché comunque è buona perché è il doppio passo però sostanzialmente io poi non ne conosco altre quindi diciamo che le cinque skill che conosco poi ripeto io ne uso veramente tre in game quando mi va bene le prime tre le utilizzo spesso le altre le altre queste altre due che vi sto facendo vedere sono un po skill aggiuntive a quello che potrebbe essere un modo come un altro per perdere tempo ok cioè quando state vincendo 4 5 a 0 vi permette di farlo il doppio passo sicuramente è una bella skill però a date vi faccio vedere basta che voi andate dritto per dritto il giocatore tante volte può magari fa anche la finta di ti farà anche la finta di corpo che interessante però quando voi spostate vedete vi basta semplicemente per quanto riguarda il doppio passo s attacca guardate ok succede così allora vado dritto sposto un po la levetta verso verso l'alto verso il basso dipende poi volendo usare qualsiasi piede sinistro destro vedete tac 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 questa è la finta il doppio passo vediamo se riesco a fare il doppio ok è molto difficile farlo al doppio però vedete ok questo era praticamente la finta doppio passo io non l'utilizzo praticamente mai però si può utilizzare allora se io voglio fare la finta doppio passo vedete una volta che ho utilizzato ho utilizzato la finta uso il tasto direzionale per andare da altra parte quindi finta e rientro a destra utilizzo a sinistro e vado a destra utilizzo il destro vado a sinistra questa è la finta magari che sul test è più efficace per dire vi faccio vedere tac ok quindi tac e vado di qua adesso qualche volta mi fa movimento della finta di corpo quando non deve farlo vedete ok vi faccio vedere anche da quest'altra parte finta di qua e vado a destra finta a sinistra vado a destra ok guardate benissimo lo skin pad che è importante ragazzi vedete finta a sinistra vado a destra finta di destra vado a sinistra questo è il doppio passo poi una volta che siamo riusciti magari a dribblare il nostro avversario si corre si rientra e si tira ok semplice bene ragazzi penso di avervi detto tutto quanto queste sono le cinque skill che io effettivamente conosco in gioco spero di essermi spiegato bene con lo skin pad penso sia abbastanza facile riuscire a intuire bene o male quello che voglio intendere magari nell'effettivo non mi sono spiegato benissimo posso posso anche immaginarlo perché comunque voglio io lo so fare farlo capire più difficile quindi ho introdotto nella schermata lo skin pad proprio apposta per farvi vedere quindi voi se avete difficoltà nel capire le mie parole guardate effettivamente lo skin pad tra crocchetta attire vado sombrero la finta di tiro e comunque alla fine della fiera il doppio passo voi capirete bene o male tramite lo skin pad tutti i movimenti che ci sono da fare per rendere funzionali le skill di questo le skill principali secondo me di questo gioco poi magari ce ne saranno altre ma io sinceramente non le utilizzo o non le conosco quindi mi direi cavolate se vi dicessi sì ragazzi ce ne sono tante altre io questi cinque conosco queste vi espongo e spero comunque che tutto questo questo contenuto comunque abbia fatto piacere e vi abbia comunque dato degli spunti interessanti per migliorare il vostro gameplay io penso di avere tutto quanto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi contenuti che arriveranno da qui in avanti da e sui football 2023 detto ciò mi raccomando seguitemi anche sul canale viola dove vado spesso e 20 anni live per divertirci sui football fare un po di divisioni amichevoli tra prima e secondario specchettamente eccetera eccetera ho un gruppo telegram dedicato di football 2023 tutto sotto link in descrizione non potete sbagliare mi raccomando seguitemi anche su tutti i social facebook instagram dove anche lì o intanto posto novità o perlomeno cose che penso riguardo il gioco o per quanto riguarda tutti gli altri giochi io penso davvero tutto quanto vi auguro una buona giornata e come sempre buon chiamo a tutti ciao ragazzi ciao ciao